per l'atto di indirizzo. Ti piacerebbe fare il Ministro della Salute? Per carità, non l'augurerei a me stesso assolutamente no. Dopodiché nella vita può succedere di tutto, ma sa perché? Perché il Ministro... Lei sa perché glielo chiedo. Un Ministro della Sanità che faccia veramente il suo mestiere non ha praticamente niente da fare. La Sanità è demandata alle Regioni. Il Ministero della Sanità dovrebbe essere abolito perché ai sensi della Costituzione la Sanità è demandata alle Regioni. Quindi il Ministro della Salute, così come il Ministro dell'Agricoltura, così come il Ministro del Turismo, sono abusivi. Ministro della Salute, Ministro dell'Agricoltura, Ministro del Turismo sono abusivi. Non dovrebbero essere cancellati dalla planaria di Palazzo Chigi perché tutte le competenze sono delle Regioni.